Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena, cominciamo la riunione di questa sera con le puledre di due anni, sono tutte femmine, generazione lettera D, sono in sei al via, uno Danny Magic, Cesare Ferranti, due Desi dei Greppi, Alessandro Dettoris, tre Dami Ferbigi, Francesco Pettinari, quattro Divina Trio, Marco Stefani, cinque Dalia Dino, Carmine Piscuoglio, sei Dorothy Bar, Vincenzo Piscuoglio. Tre cavalli al debutto, i numeri due, quattro e cinque, rinuncia al lancio Dalia Dino, parte piano anche Danny Magic, stacco della macchina, l'errore di Dorothy Bar, veloci Dami Ferbigi e Divina Trio, poi Desi dei Greppi, prima curva con Marco Stefani che cerca di mettersi secondo, dietro a Dami Ferbigi, allieva di Andrea Bigliardi che ha preso il comando, in terza posizione Desi dei Greppi davanti a Danny Magic, poi Dalia Dino, duecento metri in quindici e mezzo, fila indiana, retta di là, in vantaggio Dami Ferbigi, una figlia di Pascialest con Francesco Pettinari, seguita da Divina Trio, poi Desi dei Greppi, Danny Magic e Dalia Dino, quattrocento in trentuno e mezzo, sedici la frazione delle scuderie, prosegue il quintetto in fila indiana, ritmo discreto, visto che sono puledre, molte alla prima uscita, arriviamo ai 600 metri, passati in 48 scarsi, 16.4 la curva, è Danny Magic la prima a fare la mossa, con Cesare Ferranti che esce a largo ma allarga Marco Stefani, ci sembra intenzionato all'anticipo, vediamo la scelta, sì, esce all'esterno Divina Trio, intanto 15.9 qui davanti alle tribune, 1.38 il primo giro, siamo sulla penultima curva, con Divina Trio che si è rimesso in corda, cerca l'avanzata Danny Magic, Desi dei Greppi è sempre lì terza la corda, davanti a Dalia Dino, chilometro in 1.22, retta di là, sempre in vantaggio Dami Ferbigi con Danny Magic, ora accentua la sua pressione a largo, Divina Trio è lì alla corda, poi scatta dal fondo anche Dalia Dino, siamo a 400 metri dalla conclusione, frazione delle scuderie è passata in 16, avanza Dalia Dino, prende la schiena di Danny Magic che mette un collo davanti alla battistrada Dami Ferbigi, ancora tutto da giocare a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15.8, retta d'arrivo con Danny Magic che cerca di prendere la meglio, Danny Magic sembra sul punto di poter vincere anche bene, Danny Magic che viene a vincere su Dalia Dino, mentre per il terzo sono vicine Divina Trio e a largo Desi dei Greppi, vittoria, molto bella per Danny Magic, questa figlia di Victor Joe e principessa amati del signor Mauro Prospero, il treni di Massimo Compagno, la guida di Cesare Ferranti in percorso esterno, è passata molto bene dopo la rottura al debutto, viene a vincere con molta autorevolezza, poi buon secondo per Dalia Dino, finita molto bene, la figlia di Nadal Shiba, rivediamo Dalia Dino al secondo posto, mentre vediamo la lotta per il terzo che erano molto vicine le due, forse Divina Trio all'interno ma sono molto vicine, aspettiamo il giudizio del giudice, d'arrivo, nessun dubbio comunque per la vittoria di Danny Magic alla prima di Cesena Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!